Buongiorno a tutti, mi chiamo Mia Landi e mi occupo dei servizi educativi del Museo d'Arte Orientale, che come sapete in questo momento è chiuso. Quest'oggi volevo accompagnarvi nella galleria dedicata ai Paesi Islamici dell'Asia, situata al quarto piano di Palazzo Mazzonis, e in modo particolare ho scelto per voi alcune opere. Ovviamente vi mostrerò soltanto delle fotografie. Questo sì è un pannello ceramico a nove mattonelle, risalente al XVIII secolo, quindi di epoca ottomana, proveniente da Damasco. In quest'opera viene descritta una moschea, da alcune caratteristiche si tratta probabilmente della moschea dedicata al profeta Amedina. Vediamo le cupole, i minaretti, due colonne tortili, un cartiglio centrale che indica gloria ad Allah, viene citato Allah, Maometto e i quattro primi califi, e poi troviamo alcuni elementi decorativi caratteristici dell'arte islamica, qual è ad esempio il cipresso, i fiori di garofano. Questo pannello è situato in prossimità dell'accesso alla saletta dei manoscritti, ed è proprio da questa saletta che ho scelto altre due opere. Abbiamo qui una fotografia di un manoscritto di Corano, risalente al XIV secolo, proveniente da Herat in Afghanistan, e di epoca safabile, molto ricco di decorazioni di tipo floreali e di decorazioni dorate, queste che inquadrano il testo sacro, e realizzato in stile calligrafico Nash con inchiostro e oro su carta. La foto non rende giustizia all'opera, ma è un'opera molto preziosa e molto bella, in questo momento non è esposta, ma fa parte delle collezioni del museo. All'interno di questa saletta possiamo anche trovare dei fogli di pergamena, qui abbiamo una pagina del Corano del XII secolo, è realizzata su pergamena e con calligrafia cufico magrebi, con inchiostro bruno, alcuni pigmenti rossi e blu e dei medaglioni dorati. Ho voluto parlarvi di queste opere perché proprio all'interno del Corano viene citato il Ramadan. In questi giorni inizia il Ramadan per tutti i fedeli musulmani. La citazione viene dal versetto 185 Sura 2 che dice E' nel mezzo di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano. Guida per gli uomini e prova diretta direzione e distinzione. Chi di voi ne testimoni in inizio, digiuni. Che cos'è il Ramadan? Il Ramadan è una delle principali, una dei cinque pilastri della religione musulmana che prevede il digiuno per un mese intero. Ramadan, la parola Ramadan significa torrido, arsura, ed è collocato nel nono mese del calendario lunare. Non cade quindi mai sempre nello stesso periodo, ma si fa risalire il Ramadan al momento in cui viene rivelato il Corano a Mahometto. Quindi per la religione musulmana è un momento molto importante. Si tratta quindi appunto di uno dei cinque pilastri della religione islamica e fatto d'obbligo a tutti, tranne bambini, anziani e malati, di digiunare dall'alba al tramonto. Quindi sono esonerati anche le donne incinte che allattano coloro che viaggiano. oltre a non mangiare non si può bere, non si fuma, non si può fare attività sessuale, bisogna essere sinceri, non bisogna insultare e non bisogna calunniare. Si termina la giornata del digiuno mangiando un dattero e bevendo un bicchiere d'acqua. Poi si può ingerire cibo, si può mangiare. L'ultimo giorno di digiuno si festeggia con Id al-Fatr, che è la festa di condivisione, dove tutti insieme si festeggia la fine di questo momento molto importante. Auguro quindi a tutti gli amici e visitatori del Museo di Fede Musulmana un buon Ramadan.